Siamo con Claudio Musella, l'addetto stampa del Campania Ponticelli. Che partita attende domani la squadra di Masiccia? Sarà una partita decisiva perché credo sia l'ultimo impegno davvero ostico sul campo di Poggio Marino con il Real e sarà una partita importante per il proseguo. Sicuramente dopo il ritorno alla vittoria con il calcio campano giovani che era scontato anche se nessuna partita al finale è già deciso, però quella di domani sarà la partita più importante prima dei pre-off. Un bilancio quindi positivo fin qui della stagione? Positivo, forse si poteva fare qualcosa in più, però va bene così. Il campo ha dato questi responsi fino a questo momento, quindi significa che per ora questo è stato quello che c'era da fare. Poi il proseguo del campionato delle ultime tre giornate più i play-off diranno se siamo da eccellenza o meno. Sappiamo anche che sei direttore del Corriere del Pallone, c'è qualcosa da farci vedere? Sì, questa settimana è uscito di calcio, il nostro mensile, questo è il secondo numero dopo il numero zero del mese di febbraio, questo qui è quello di marzo, abbiamo una cover story con Benitez, poi c'è un po' di storia della famiglia Cannavaro, abbiamo intervistato il Papa Pasquale, c'è il Pomigliano, le scuole calcio di San Giorgio Arzanese. Un numero da non perdere, sicuramente, sicuramente, tanti contenuti e soprattutto mi piace dire che questo non è il solito giornale di calcio in cui si parla di risultati, di quello che è successo in campo, ma andiamo un po' ad analizzare quello che c'è dietro. Grazie Claudio Musilla, dittor stampa del Campania Ponticelli.